signori e signore dallo studio puzzle di Genova RGP Produzioni presenta RG Boss Elevami sto gatto dai quando vogliamo quando vogliamo a chi? Allora stavano parlato con lei dottor Gamba? Mi stavano dicendo quando volete esatto io intanto eh cerco di fare come faceva Dado eh durante zelli cioè mi sto eh tirando su le maniche eh perché comunque lavorare con lei dottor Cevasco è un lavoro eh? Madonna me lo dice sempre anche la mia partner mi sbottono anche l'ultimo bottoncino della camicia e che tra l'altro sto per perdere lei non è nata con la camicia? No anzi sto per perderla e vi diamo il benvenuto a questo nuovo appuntamento di RG Box insieme ancora una volta la copiata Gambaro Cevasco. Mi dispiace non essere la Torielli. O Cevasco Gambaro. Sì è uguale non ha le sue tette però della Torielli voglio dire però però salutiamola però salutiamo la Torielli certo la vogliamo ricordare così prima lei e poi lei. La vogliamo ricordare così. La vogliamo ricordare così. Allora salutiamo la Torielli e che questa era una cosa scontata ovviamente che la nostra collega. Monica usa le tante che fanno parte del calderone. Sì certo. Una delle tante che secondo me quando la vede la la curca dei botte come dicono. Va bene. Andiamo con la musica Luca. La radio della musica e dell'informazione. Dimensione Italia punto net. Dimensione Italia punto net. Allora i metodi per contattarci sono i seguenti qui a Dimensione Italia la message box che è 392 391 6361 poi potete collegarvi al nostro bellissimo sito che è Dimensione Italia punto net sito nel quale troverete tutte le news che riguardano i nostri programmi e anche il modo per scaricarvi comunque eh tutto ciò che riguarda dimensione Italia punto net anche sul vostro cellulare andate a scovare tutte le notizie mi raccomando. This is fun. Hey this is Katie Perry Perry Perry. Summertime. Dimensione Italia punto net. Bastic. 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 Potevano metterla però eh. Ce la potevano metterla dai. Regia ce la potevi mandare? Ce l'avevo chiesta? Eh eh eh. Comunque chi era quello? Eh Shaggy. Shaggy è vero. Un altro di cui si sono perse le tracce. Le tracce. Le tracce. Credo che è strano che non faccia l'isola dei famosi. No ebbè ma non era abbastanza famoso quanto Denaro. Ma bravo. Perché di Denaro riesco a citarti almeno tra quattro pezzi. Di Shaggy. Esatto. Non vado oltre bombastic in questo in questo momento. Beh Denaro ci parti. Ci parti. Bortolove. Sai che Bortolove non si ricorda nessuno. Catch the Fox. Bortolove secondo me è la canzone più bella che ha fatto Denaro e per l'altro credo forse anche l'unica dove cantava lui. Eh sì esatto. No Bortolove era dell'ottotto. Anche lì me lo ricordo per una serie di circostanze personali. Quindi copertina azzurna e bianca. Bravissimo. Bravo. 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 Sennò Stefano Zandri se ci senti. Eh sì. Facci un whatsappino. Sì. Non c'è mena perché è grosso. No no no. È grosso eh. È anche è molto. Te lo ricordi quel personaggio di Drive-In? Il. Quello molleggiato. Il palestrato. Esatto. Melo. Era un po' così. Molto più di musica. Molto più di news per te. Dimensione Italia punto net. Dimensione Italia punto net. Emi eh vedi che mi apprezza però. E mi apprezza. E mi apprezza. E mi apprezza. E mi apprezza. Salutiamo magica magica Emi che ci ha scritto adesso e che ci saluta e anche lei dice scrive una frase molto carina mi tenete compagnia. Ma che bello. E credo che per uno speaker. Sì. Probabilmente è il complimento più più bello. Ma se poi Emi ci mandi anche una foto. Sì. Sei pure ignota. Noi vediamo a tenerti compagnia. Non solo con la voce. Ci fanno compagnia. Ci fanno compagnia. Certe lettere d'amore. Certe lettere d'amore. Emi quanto ti vediamo bene. Dimensione Italia punto net. Allora per concludere in in bellezza aspetta aspetta concludendo concludendo grappa possiamo dirlo posso in cima l'elicottero grappa bocchino sigillo nero che c'era in me. Concludiamo. Non era un doppio sesso ma si chiamava veramente così. No 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 no. Si chiamava veramente così. Ed era il buon Michele. Michele buongiorno. Buongiorno. Sì. E concludendo chiudiamo baracca e burattini. Si può dire si può salutare in tanti modi eh. Ma esatto. Chiudiamo baracca e burattini. Tiriamo i remi in barca. Andiamoci una. Esatto. Vi lasciamo comunque con la musica ancora per tutta la giornata. Sì tutto il mondo e tutta la vita. Morirete prima. Ancora programmi bellissimi rimanete sempre all'ascolto. Mi raccomando. Ciao da Claudio Gambaro. E ciao anche da Luca Cevasco. Ci sentiamo ma prima di quanto voi possiate immaginare. Primo poi. Sì. Signori e signore. RG Box. Elevami sto gatto dai qua. RG Grazie